Ciao a tutti, oggi prepareremo lo smoothie all'albicocca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono albicocche snocciolate, ghiaccio, latte molto freddo e zucchero semolato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere albicocche, il ghiaccio ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 7. Posizionare la farfalla sulle lame. aggiungere il latte ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. Trasferire in bicchieri e servire. Smoothie all'albicocca. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.